Il crimine, luni, nell'armadio, spero che mia madre non li troverà So cos'è la povertà, morire senza una lira, no, no, no Nelle tasche ne ho duemila e li rimasto nell'otto Al volante senza la patente c'è il mio fra Meglio fare la galera della carità Clienti nel phone, 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 phone Urla Free Bobby, qui passano i giorni, yeah Com'è? La droppiamo? La droppiamo, il negro Prima il negro Bobby Oh anche io C'è questa chiamata Allora bro Uè bro, come stai? Com'è? Tutto bene, te? Ciao a posto, te bro Tutto bene Che stai a fare in studio? Non si vede niente, vero? No, si vede un cazzo Ragazzi sei a Luca? Sì, sono a Luca Non fai Torno settimana prossima Oh, spagliare qualcosa Devo spagliare qualcos'altro Tipo il pezzo Quello che abbiamo fatto Minchia, quello mi fa spagliare bro Allora spagliare il beat Perché spagliare il beat Quello con le chitarre, no? Sì, sì E se posso mettere anche la voce Metteci anche la voce Magari i primi 10 secondi 20 secondi Facciamo così, dai Facciamo sentire Però la tag la fai te dal vivo Grazie 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 si sente male si sente male però non so se la gente sentiva io non sentivo niente come non senti no sentivo tutto a scatti a scatti? si riprova sarà la connessione bro la connessione del cazzo qualcuno l'avrà sentito ok qualcuno l'avrà sentito comunque dai ci becchiamo quando torni ti hai fatto roba nuova? si bro vai quando torni dai dai allora buon lavoro tu ripasiti eh si per forza vediamo quando torni dai ciao bro buona serata ciao ciao